Sono stati identificati e arrestati gli autori della brutale rapina messa a segno a Cupello il 1 ottobre 2018 presso la gioielleria Boschetti. Si tratta di quattro pregiudicati di origine pugliese, tre sono stati associati al carcere di Foggia, ovvero RG del 93, PL del 73 e LPS del 96. È entrato un primo soggetto dei quattro fingendo di essere interessato all'acquisto di alcuni monili per un presente o per altro. Nel momento in cui ha richiesto al proprietario di mostrarglieli, nel momento in cui ha aperto una cassaforte per farglieli vedere, il tale ha estratto l'arma e lo ha minacciato. Al che il proprietario con grande coraggio non si è tirato indietro, ha riconosciuto che il malfattore aveva una barba posticcia, un berretto in testa e quindi ha tentato di opporre resistenza. Purtroppo è stato aggredito violentemente, prima con il calcio della pistola sul capo e poi con una serie di colpi al torace che hanno determinato una prognosi di 30 giorni nei suoi confronti. Per fortuna si è ripreso successivamente ma non senza una lenta e anche difficile guarigione. Dopodiché il primo ha aperto la porta ad altri due soggetti che hanno preso il bottino e grazie a un quarto che li aspettava fuori con un veicolo noleggiato qualche giorno prima si sono dati alla fuga. Il quarto SH del 1989 è ancora ricercato? Al momento sì, c'è un ricercato che si è sottratto all'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Vasto e le ricerche attualmente sono in corso, stanno proseguendo e confidiamo nel ritrovamento del soggetto. Ecco.